Ogni giorno ne vediamo di tutti i tipi per fare la spesa ognuno ha modo suo chi ha fretta e salta la fila chi è indecisa fino all'ultimo secondo chi entra per comprare il necessario e non si ferma più chi chiede un po d'attenzione e tu che tipo da supermercato sei Per Deco sei un'amica, un amico e meriti disponibilità ed accoglienza con un gesto in più Uno sguardo che ti capisce all'istante E la complicità di un sorriso autentico, affidabilità e cortesia per offrirti sempre la migliore soluzione Con un personale attento e vicino a chi ha bisogno di un aiuto Familiare, accogliente, vicino e affidabile Deco è giovane ma cresce generoso insieme a te E vuole festeggiare i suoi dieci anni rinnovando una promessa Essere Deco, la tua scelta quotidiana